Olivetti Logos serie 800 Le calcolatrici elettroniche professionali Logos 802, 804T, 812 e 814T vennero prodotte in Malesia per la Olivetti a partire dal 2008. Differivano sostanzialmente dai precedenti modelli Logos 662, 692 e 694T per le dimensioni leggermente più contenute ed il colore della carrozzeria. I quattro modelli condividevano le seguenti prestazioni. Quattro operazioni fondamentali, gran totale, percentuale e calcolo dello scostamento delta percentuale, calcolo del ricarico, calcolo aliquota, conversione valutaria, secondo totalizzatore con accumulo diretto in memoria, arrotondamenti, selettore stampa e non stampa e decimali. Tutte con alimentazione diretta da rete. I modelli differivano nel numero delle cifre, nel tipo di display, nel tipo di stampante e in alcune prestazioni di calcolo aggiuntive. Ecco le principali differenze dei modelli. Logos 802, display a cristalli liquidi a 12 cifre, retroilluminato a due colori, stampante ad impatto a due colori. Logos 804T, display a cristalli liquidi a 14 cifre, retroilluminato a due colori. Stampante termica, alfanumerica, silenziosa e veloce. Logos 812, display fluorescente a 12 cifre, stampante ad impatto a due colori. Logos 814T, display a cristalli liquidi a 14 cifre, retroilluminato a due colori. Stampante termica, alfanumerica, silenziosa e veloce. Le calcolatrici Logos della serie 800 vennero sostituite nel 2010 dai modelli tuttora in produzione Logos della serie 900.